Io non ci sto alla logica di non posticipare la scadenza dell'RSU al fine di farle partecipate in sicurezza. Io non ci sto ad avere ancora un contratto nazionale che non recupera il potere d'acquisto e non garantisce una crescita professionale. Io non ci sto alla tassa sui primi dieci giorni di malattia. Io non ci sto al fatto di poter partecipare alle RSU ma di non aver diritto per i sindacati non firmatari di contratto ad indire assemblee per farmi conoscere e votare. Io non ci sto a contratti che non riconoscono la dignità del lavoro svolto, non garantiscono il lavoro in sicurezza e non ci dotano di mezzi e strumenti adeguati. Io non ci sto che nel mio ufficio siano candidati nella RSU solo i sindacati firmatari di questi contratti inadeguati. Candidati, vota, supporta la lista di ADL Cobas per dare voce all'auto-organizzazione. Contattaci alla mail elezioni.rsu2022.gmail.com oppure ai numeri 02 84 21 27 68 o 380 74 74 577 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.